Ciao ragazzi, sono Chris e benvenuti nel mio canale e in questa nuova rubrica chiamata Parkside News. Nuova rubrica che ha lo scopo di farvi conoscere le novità del mondo Parkside. Non avendo però nessuna spia all'interno di Parkside, quello che farò è cercare nel web le anteprime e le informazioni dei prodotti che spesso escono prima in altri paesi e poi in Italia. Oggi parliamo di una telecamera termica o termocamera della Parkside che ho trovato nel sito francese, quella che state vedendo però attualmente è la traduzione in italiano. Come vedete è venduta a 99€ in offerta con 16% di sconto, prezzo base 119€. E naturalmente non sappiamo il prezzo che avrà in Italia e soprattutto non sappiamo quando uscirà. Ed è proprio la prima serie A1 PWBKA4A1 da 4V. Vediamo le immagini nella pagina non tradotta. Eccola qua. Vediamo che l'impugnatura è simile a quella della torcia da 12V. Un display, 4 tasti funzione, 2 dei quali con doppia funzione, indicazione della batteria e la temperatura. Bisogna vedere questa temperatura in quale punto segna. Ci sarà sicuramente la possibilità di selezionare il punto. Ecco qua un altro esempio di utilizzo in un pannello elettrico per far vedere i cavi che sono alimentati. Utilizzo su un termosifone, un calorifero. A differenza dell'immagine di prima abbiamo il pallino del REC. Sta registrando sicuramente in una memoria interna. Il tempo, 8 secondi di registrazione. E i gradi che visualizza sicuramente dove c'è questo quadratino qui. Questa è la parte frontale con lo sportellino gommato per il trasferimento dei dati e il grilletto per azionare la termocamera. Questi sono i due sensori. Vediamo le caratteristiche. Ritorniamo nel sito tradotto. Qui vediamo che ci sono tre batterie stilo. Ed ecco i 4V. E probabilmente questo qua sotto di colore rosso è un tappo. Simpatica borsetta per il trasporto. Per il controllo del flusso di calore, la ricerca di parti surriscaldate e ponti termici. Emissività regolabile. Credo che sia la scala. Noi possiamo regolare la scala per avere misurazioni più precise. Visualizzazione delle immagini in 4 tavolozze di colori. Che sono, eccola qua. Il classico colore rosso, come Predator. Colore RGB, quello che abbiamo visto nelle immagini prima. Scala di grigi, come i pipistrelli. Col bianco caldo o col nero caldo. E lo schermo LCD TFT da 2.8 pollici. E rileva automaticamente il punto più caldo e il punto più freddo dell'immagine. Registra e scatta foto. 1024 punti di misura. Protezione IP54. IP54 ha pure una filettatura integrata da un quarto di pollice per un utilizzo col treppiede. USB-C per il trasferimento dei dati e a questo punto non per la ricarica perché abbiamo visto che ci sono le batterie stilo. La risoluzione dello schermo è 240x320 pixel. E pesa 252 grammi. Il prezzo sembra invitante per essere una termocamera che ci dà la possibilità anche di registrare video e foto rispetto a una classica pistola termometrica. E non si sa quando esce in Italia. Ok ragazzi, per questa news è tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere aggiornati ogni volta che uscirà un nuovo video su una news dal mondo Parkside. Ciao!